Al via i tamponi rapidi per i casi scolastici in attesa dei salivari, la macchina operativa al San Donato da circa 24 ore dopo una giornata di prove. Servirà ad analizzare i tamponi rapidi naso faringei che ricercano l'antigene virale del SARS-CoV-2. Ad annunciarlo ai nostri microfoni in esclusiva era stato proprio il direttore generale della ASL Toscana Sud-Est, Antonio Durzo. Ricordo che nel periodo di lockdown, quello più critico per tutte le aziende sanitarie, l'azienda Toscana Sud-Est faceva complessivamente 1000 tamponi. Adesso stiamo facendo 3000 tamponi al giorno ed è entrata in attività ieri una macchina che ci fa 500 tamponi, si parla dei test antigenici rapidi su tampone naso faringeo. Questa macchina ha una operatività di 500 tamponi al giorno che è proprio destinata ai contatti dei casi scolastici e alla comunità scolastica. Secondo il dato cristallizzato al 15 di ottobre, in provincia di Arezzo ci sono 111 studenti positivi e di conseguenza 710 quarantene generate da questi alunni. Anche gli adulti sono coinvolti con 25 insegnanti contagiati che hanno portato a ulteriori 190 quarantene. A questi vanno aggiunti i dati usciti a fine giornata dove è stato raggiunto un picco di contagi che supera i 130 casi. Ecco perché per sopperire alla mole di lavoro aggiuntiva dovuta all'aumento dei tamponi, il laboratorio di analisi dell'ospedale San Donato di Arezzo è stato potenziato. Sono quattro le macchine adesso operative per i diversi tipi di analisi sui tamponi. Per i test rapidi salivari in alcune regioni se ne parla già proprio per la scuola. Per quello che riguarda la regione toscana potrebbero arrivare nelle prossime settimane, ma solo dopo che siano state approvate dal tavolo che la regione ha con i microbiologi.